Nuova puntata di Sardio on the road, andiamo a vedere i migliori della settimana. Secondo gol consecutivo per Davide Arras, il suo colpo di testa a tempo scaduto regala il pari al Grossetto contro la Vispesaro. Gioie e dolori per Marco Mancosu contro il Perugia, gol sul colpo di testa e rigore del sorpasso fallito malamente, con la spalca alla fine perde in casa. Non segna mai una furia Nicolo Barella, sempre più imprescindibile per l'Inter. A Empoli per fermarlo serve un'entrata killer, con l'Udinese almeno sette conclusioni verso la porta di Silvestri. Mauro Vigoritto è un incubo per la Ternana, grandi parate contro gli Umbri fino alla doppia respinta sul rigore calciato due volte da Donnarumma. Epico. Giornata di assist tra Burrai, Oggiano e Mastino. Premiamo il 2001 dell'Arezzo che mette sulla testa di Sparacello il pallone del vantaggio sul Caci. Il valente della settimana è il 2002 del Cosenza, Aldo Florenzi. Grande impegno e un palo nella sfida contro la Ternana. Fuga di 50 metri con tanto di tunnel nel 3-1 di Lecce e lui il sardo più combattivo della settimana.